Angelo Giudici, proseguono i preparativi per il terzo festival del libro degli scrittori liguri dal 14 al 16 luglio che quest'anno si terrà a Santo Stefano al mare, lo possiamo definire un festival diffuso, è così? Un festival diffuso perché vogliamo far vivere i borghi una cultura, una cultura che è prettamente ligure che può dare spazio anche alla musica, all'arte, alla fotografia, a conferenze di ogni genere legate anche all'ambiente diffuso proprio come possono essere gli alberghi diffusi o addirittura a zero da dire anche i CIV il centro integrato di via nasceva per questo, per essere un centro commerciale all'aperto noi vogliamo fare non un centro commerciale, vogliamo fare un centro di cultura dove all'aperto nei borghi Non solo il centro storico sarà coinvolto? Coinvolto anche Marina degli Aregai e la sala polivalente apponente verso l'Iva Rigole abbiamo tre grandi location, sala polivalente, centro storico e Marina degli Aregai ovviamente il lungomare con le attività commerciali che porteranno avanti la notte gialla è un momento anche diciamo di intrattenimento, divertimento dedicato a tutti coloro che avranno il coraggio di mettersi un indumento giallo, una maglietta gialla, gli occhiali gialli, una penna e coloro che parteciperanno potrebbero essere anche premiati dai nostri operatori commerciali del posto Grazie 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 Grazie.